Prosegue la politica di attenzione da parte del Comune all'edilizia scolastica. Stamani il Sindaco di Piazza, accompagnato da Angela Brandi, Assessora all'Educazione, e da Elisa Lodi, Assessore ai lavori pubblici, ha effettuato un sopralluogo al Nido tutti i bimbi di via Caboro 2, in zona San Giusto. Questa è la prima e la più antica struttura di asilo nido che abbiamo a Trieste, perché ne abbiamo notizia fin dal libro Visita, che ancora conserviamo, del 1924. L'intervento di riqualificazione, progettato su incarico del Comune dallo studio dell'architetto Benedetti di Trieste, è un'opera complessiva di ristrutturazione dell'edificio, dettata anche dalla necessità di adeguamenti normativi, quali la normativa antincendio, gli standard di sistemi educativi, l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'adeguamento normativo è stata l'occasione, in sinergia con gli operatori scolastici, per una rivisitazione dell'impianto distributivo, per raggiungere una maggiore razionalità degli spazi, una migliore suddivisione degli ambienti e una chiara separazione funzionale delle aree, nel rispetto della tutela culturale e paesaggistica dell'edificio e in una visione generale di conservazione e valorizzazione dell'impianto architettonico, dei materiali e delle finiture originarie. Una spesa importante di oltre 600 mila euro, i lavori sono partiti due settimane fa, ci sarà una riorganizzazione degli spazi, una sistemazione di tutte le aule, con un nuovo ascensore all'interno che non c'era prima, un ingresso facilitato e un aggiornamento quindi a normativa antincendio. I lavori si concluderanno il 15 giugno dell'anno prossimo. Alla fine dell'intervento la struttura, parte di un complesso costruito negli anni 30 del 900 all'interno di un programma urbanistico di edilizia popolare che coinvolgeva le pendici del Colle di San Giusto, riassumerà uno dei nomi originari. Quindi è un edificio storico a cui teniamo molto ed è giusto che torni a chiamarsi San Giusto in analogia con la vicina struttura che si chiama Tor Cucerna proprio perché vicina la torre omonima.